La trasformazione digitale sta portando ad un aumento esponenziale della varietà e della quantità di informazioni a nostra disposizione. In questo scenario, gli strumenti di Data Science permettono di trasformare il mare magnum di dati in conoscenza immediatamente utilizzabile per governare il business. Tuttavia, la diffusione di tali strumenti è stata spesso frenata dalla difficoltà di utilizzo e dalla scarsa disponibilità di risorse specializzate. Add to Build è un servizio di Advanced and Predictive Analytics nato per aiutare i decision maker a comprendere i fenomeni aziendali e prevedere il loro andamento futuro. Add to Build può affiancare gli strumenti di Business Intelligence già in uso o sostituire gli interventi fai-da-te realizzati internamente all'azienda. Il servizio include sempre il supporto di un Competence Center in grado di far emergere dal dato tutto il suo potenziale conoscitivo e predittivo. La semplicità di utilizzo è sempre una priorità. Abituati ad avere ciò che ti serve e quando ti serve, senza dover affrontare algoritmi, statistica e modelli matematici. Add to Build può essere applicato con successo agli ambiti più diversi, dal Finance alle Utilities, passando per le Telco e l'Online Gaming. Qualunque sia il tuo business, il successo dipende anche dalla comprensione di ciò che i tuoi dati nascondono. Una Proof of Concept personalizzata e interamente a nostro carico è lo strumento ideale per raggiungere l'obiettivo. Contatta ora un nostro specialista scrivendo a saleschiocciola addtubuild.com